Benvenute in questo nuovo video! Oggi vi faccio vedere come pulisco io i pennelli di trucco. Vado innanzitutto a rinfirre una piccola bacinella di acqua e vado ad inserire qualche goccia di shampoo abbastanza delicato. Questa è della linea PH Bio della Lidl. Vado a prendere questo aggeggio. Questo aggeggio è proprio adatto a pulire i pennelli perché ha tutte queste venature qui che vanno proprio a passare in mezzo al pennello e lo potete trovare anche su Amazon. Vado appunto a mettere qualche goccia su questo aggeggio e poi vado a strofinare il pennello su di esso. L'ultima passata ovviamente è con l'acqua corrente, quindi con l'acqua pulita perché sennò non avrebbe senso pulire i pennelli e poi vado non a stirare le setole ma a pressare in modo tale che il pennello non si rovina, quindi non perda setole e asciugandosi a mantenere la sua forma, insomma. E continuo così con tutti i pennelli. A volte utilizzo anche le mani perché comunque non c'è bisogno necessariamente di avere quell'aggeggio, insomma. E a volte su di esso non vado sempre ad ogni pennello a mettere nuove gocce di shampoo ma se la sfuma risulta bianca vado con la stessa a pulire altri pennelli, magari quelli più piccoli. Per quanto riguarda le Beauty Blender invece la vado innanzitutto a riempire di acqua, quindi a impregnare di acqua, metto qualche goccia di shampoo su di essa direttamente e poi vado a strizzarla, massaggiarla, a risciacquarla nella stessa acqua. Dopodiché, quando l'acqua diventa marrone, quindi alla fine di tutto, vado a risciacquare, a mettere acqua pulita e continuo, vado avanti magari, o risciacquando cose che magari non riuscivo a risciacquare nell'acqua sporca oppure magari con gli altri pennelli che mancavano. Io spero che questo video vi sia stato utile e vi mando un bacione enorme. Ciao!